Musica Julian, ti alzi per favore, devi andare all'asilo, Julian? Cosa? Buongiorno mamma, ma devo per forza, mi devi sempre sbagliare così presto, non è giusto, sto sognando così E su una nuvola di zucchero, mi parevi tu alzati, ma anche se ti vuole, lasciatemi in pace Oh Julian, mi dispiace che devo svegliarli, ma comunque devi alzarti, quindi preparati Oh, accidenti, non è possibile, lasciatemi un po' in pace, mannaggia, oh mi fa male tutto, non ho dormito bene Buongiorno Julian, ciao, già sveglio Ehi, abbassa la voce, abbassa la voce, mi sono appena svegliato, e comunque chi ti ha chiesto di entrare in camera? Eh, scusa, ma devo andare in camera tua, perché altrimenti non esco dalla mia Oh sì, oh sì Oh, comprati un pavimento, ma cosa oggi? Oh, voi due, mi dispiace, oggi non ci sono i panini freschi Come, niente panini, ma come, cosa dovrei mangiare? Non lo so, muesli, cornflakes, guarda, le ho messe lì Ah sì, cornflakes, cornflakes, oh, mangia, mangia Cornflakes, muesli, oh no, no, non mi piace, accidenti, e poi sono dure, bisogna masticare troppo, no, 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 non è per me Allora non mangio niente, ok, vado in camera mia, mi faccio pronta e poi vado all'asilo Ma Julian, dai, hai dei denti, no, puoi usarli e masticare? Oh, niente, non mangiare dei muesli perché bisogna masticarlo, ma che idea sarà? Oh no, no, ma Julian, ma che c'è? Sei davvero strano E perché non vuoi masticare? Sei un nonno? E allora, allora sono un nonno, ora non voglio mangiarlo, ok? Ora non voglio i muesli, non voglio i cornflakes, poi sono troppo duri Se come io fossi un nonno, ma sembro un nonno, ma siete per caso diventati pazzi? Julian Vogel come nonno Sarebbe grandioso Sì, 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 poi tutti mi aiuteranno, però, sì, sì, sì Ma i miei vestiti, le cose, no, non vanno bene, i miei capelli, no, ho bisogno di cose per vecchi Magari dal papà, dalla nonna, dalla nonna, non lo so Oh sì, certo, certo, perfetto Outfit, check, ok, ora devo solamente parlare come un nonno Oh sì, mi fanno male le ossa, no, così veloce Ok, la voce va bene, ora ho bisogno Oh sì, la barba, ok, sembra un nonno, ma qualcosa mi manca Oh sì, certo, troverò sicuro tutto nel garage Oh, perfetto, perché il nonno ha bisogno anche di un bastone, insomma, per andare a camminare, se riesco a camminare veloce, vabbè Julian, ma cosa stai facendo? Oh, come dovrei sembrare, sono un vecchio nonno e così lo sono Oh, non ci credo Qualcuno può, per favore, portarmi lo zaino, perché, insomma, potrebbe passarmi lo zaino, non riesco a passarmi Eh, nonno Julian, certo, l'aiuto io, non si preoccupare, le vado a prendere lo zaino Oh, Julian, come un nonno, ma non è possibile Eh, sì, nonno, qui c'è il tuo zaino Molte grazie, ragazzina, si chiama Emma, lei è vero? Sì, sì, la conosco, la conosco Ora devo andare all'asilo, volevo dire a raccovero Oh, sono così smimorato, perché sono un nonno, ma magari mia mamma dovrebbe portarmi all'asilo Oh, volevo dire a raccovero, madre Eh, Julian, ti ho preparato il pane, perché non volevi mangiare niente, che non esiste, ok? Madre, potresti, per favore, metterlo nel mio zaino, perché non ho delle mani libere, sarebbe molto gentile, perché mi fa male anche tutto Eh, ok, penso di avere tutto, possiamo andare, possiamo portare il nonno all'asilo, porto lo zaino Ok, va bene, se proprio deve essere, ma ora quanto ci metterà, continuerà a fare sta storia Oh, stop, stop, non sono così veloce, non sono così giovane Oh, 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 che bravo che sono Bene, nonno, ti metto qui lo zaino, ok? Così non che dopo la cerchi Eh, buongiorno, Brigitte, ehm, Julian oggi purtroppo è un po' pazzo Eh, comunque oggi ho un nonno Un nonno? Ma l'altra volta era una sirena, ma non è carnevale Eh, vedrai, Brigitte, ok? Noi andiamo, Emma Ciao, Julian, buon divertimento Oh, questa strada era davvero, davvero lunga, sono davvero troppo, stanco, quanti chilometri erano? Due o venti? Oh, non lo so, non sono più giovane, non posso più farlo Ah, ma Julian, ma come sei conciato? Mia mamma me l'aveva proprio detto Tu come un nonno sei travestito o sei davvero così? Oh, un momento, per favore, lo rispondo tra poco, perché ora non riesco, devo riprendere fiato Ora mi siedo, un attimo, oh, oh, che fatica Cosa? Julian, ma, ma che c'è? Ma cosa stai facendo? Ehi, ahi, 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 qualcuno potrebbe per favore portarmi un bicchiere d'acqua Eh, eh, sì, arriva subito, ecco Molte grazie, tesoro Tesoro? Ah, meno male, ok, questa idea di fare il nonno non è male, perché non ci ho pensato prima Oh, sì, è stato abbastanza faticoso per una giornata, penso che devo sdraiarmi un po' a fare un stondellino Ma che sai tu, che sai tu, non sai, bambino tradino Ehi, giovanotto, potete per favore liberarmi del posto, vorrei sdraiarmi un po' Ah, sì, certo, certo, la mia mamma ha detto che bisogna dare il posto alle persone più vecchie e aiutarle, quindi sì, prego Oh, molte grazie, che piccola mia, molte grazie, non ce l'avrei fatta senza altro aiuto Monomale che ci sei tu